Il nostro comune pone il nostro comune tra tutti i comuni d'Italia più all'avanguardia nel rispetto dei diritti di equità tra tutti i cittadini. Storica decisione del Consiglio Comunale di Forio che votando a favore della proposta avanzata da Domenico Savio, consigliere comunale di opposizione del gruppo consigliare del Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, riconosce ufficialmente le unioni civili, una proposta di civiltà sociale votata quasi all'unanimità. Infatti c'è stato un solo astenuto, il consigliere della maggioranza amministrativa Chiara Conti. Con il voto di Erno Forio, grazie all'impegno di Domenico Savio, mette finalmente fine alle discriminazioni che ci sono state sino ad oggi tra le coppie sposate e le coppie di fatto, garantendo uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale. Domenico Savio ha sottolineato l'importanza del voto favorevole da parte del Consiglio Comunale di Forio sul riconoscimento delle coppie di fatto. È stata sancita una conquista di civiltà per il nostro comune e questo voto pone il nostro comune tra tutti i comuni d'Italia più all'avanguardia nel rispetto dei diritti di equità tra tutti i cittadini. Quella odierna è stata una decisione storica, anche per il fatto che Forio è stato il primo comune dei sei dell'isola d'Ischia ad istituire il registro amministrativo delle unioni civili.